Per i trovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. In primo piano, questa sera parleremo del successo di Mirko Zanni, 23enne di Cordenons, che ha raggiunto un incredibile traguardo vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella disciplina della pesistica. Oggi abbiamo anche intervistato Dino Marcuz, storico maestro di pesistica del Pordenonese, che è stato per Mirko Zanni e per altri atleti mentore e insegnante. E ancora parleremo di collezioni di fotografie, in particolare di quella di Gino Argentini, che abbiamo intervistato oggi perché ha esposto oltre 500 fotografie sulla storia di Pordenone e non solo alla fiera di Pordenone. Oggi si è tenuto anche l'incontro con l'avvocato Vito Claut, insieme ad alcuni degli operatori sanitari che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19 e che probabilmente faranno ricorso dopo la sospensione arrivata dall'ASPO e dall'Ordine degli Infermieri e dei Medici. Queste e molte altre notizie che andremo ad approfondire nel corso del telegiornale di questa sera, ma prima i saluti dai colleghi, dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. A voi la linea. Un cordiale saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste, tante le notizie che approfondiremo anche oggi nel corso della nuova edizione del nostro notiziario. A partire dal grave incidente che si è verificato nella notte di sabato 24 luglio, che ha coinvolto un'auto e una moto grave, la passeggera dell'automobile che sembrerebbe essere in pericolo di perdere un braccio a seguito dell'impatto. Approfondiremo poi la tematica e anzi la dinamica relativa a un escursionista che ha subito una caduta per oltre 20 metri durante un'escursione. Ma approfondiremo poi anche la tematica legata al tema vaccini, perché nell'ultima settimana di luglio in Friuli, Venezia e Giulia si è registrato un picco delle prenotazioni del vaccino anti-Covid per quanto riguarda la fascia d'età under 30. Tante anche le notizie che approfondiremo da Udine, Gorizia e Trieste, ma prima di fare tutto questo, linea che può passare al collega del Veneto, per i saluti. Grazie, un saluto anche dalla nostra redazione. Dunque Covid-19, il Veneto ha immunizzato oltre la metà della popolazione residente, resta comunque sempre alta l'attenzione nei confronti dei contagi in tutte le sette province con la variante Delta. Nella marca trevigiana blitz della Guardia di Finanza con il sequestro di 5.000 litri di vino in due distinte operazioni. A proposito di marca trevigiana, un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente accaduto a Sernaglia della Battaglia mentre viaggiava in sella alla propria Vespa. E anche nel Veneto orientale c'è una tragedia che scuote tutto il San Donatese in un solo a seguito della morte di un ragazzo di 17 anni colto da un malore improvviso mentre giocava a pallone con gli amici. Ne parleremo nel corso della nostra edizione Veneta. Quella di aerea è stata una domenica di interventi su tutta la costa per il mare Mosso, tanti salvataggi. Un uomo purtroppo ha perso anche la vita. Teniamo due ospiti in studio, linea che può tornare subito a Pordenone. Medaglia di bronzo per Mirko Zanni, 23enne di Cordenons che alle Olimpiadi di Tokyo, nella disciplina della pesistica, oltre ad ottenere il bronzo, ha anche stabilito un nuovo record italiano. I dettagli del prossimo servizio. Ragazzi, buongiorno. Finalmente qui ce l'abbiamo fatta. Grazie, grazie. Volevo ringraziare di cuore tutti quanti per i messaggi che mi hanno compiato. Sto cercando di rispondere a tutti nel più breve tempo possibile. E niente, ancora non ci credo. Prima medaglia del Friuli Venezia Giulia ai giochi olimpici di Tokyo e un nuovo primato nazionale nel sollevamento pesi. Mirko Zanni, 23enne di Cordenons, entra nella storia dello sport azzurro con il bronzo guadagnato ieri, nella categoria 67 kg, alzando complessivamente 322 kg. Era dal loro di Norberto Oberburger, conquistato a Los Angeles nel 1984, che non arrivava un podio olimpico italiano in questa disciplina. È stata una competizione sudata, quella di ieri, iniziata alle 13, ora italiana, con alcuni tentativi nulli per il pordenonese, che non si è fatto prendere dallo sconforto e ha chiuso la gara con un'alzata vincente, che l'ha fatto volare al terzo posto dopo il cinese Chen, per lui 332 kg di totale, e il colombiano Moschera Lozano, 331. Per Mirko Zanni, talento cresciuto nella pesistica pordenonese, quella di Tokyo è la prima esperienza olimpica tra i grandi, dopo il bronzo vinto alle Olimpiadi giovanili di Nanchino nel 2014. Tra i successi più recenti dell'atleta, ora tesserato per l'esercito, l'argento mondiale conquistato a Mosca questa primavera. Dopo dieci anni di allenamenti e sacrifici, la medaglia di ieri, per lui, pesa ancora di più di 322 kg. Sulla dedica non ha avuto dubbi. Il pensiero è andato subito alla mamma, al papà e al nonno, che ha guardato dal cielo l'ultima prova. Ci tenevo, inoltre, a ringraziare il gruppo sportivo esercito, che ha reso possibile tutto questo. Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie a loro, che mi hanno supportato in tutto e per tutto, sempre. E un saluto speciale anche ai nostri militari in missione. Ragazzi, questa è anche vostra. Oggi pomeriggio abbiamo intervistato Dino Marcuz, mentore di Zanni, nonché storico maestro della pesistica pordenonese. Per lui, che ha visto crescere l'atleta da quando era giovanissimo, la medaglia è un motivo di grandissimo orgoglio professionale e anche personale. Il servizio. Dino Marcuz, storico maestro di pesistica, anche mentore di Mirko Zanni, che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. La sente anche sua questa medaglia, in un modo o nell'altro? Sì, la sentiamo nostra, plurale, al plurale, sì, nostra di tutti noi, insomma, eravamo tutti qua ieri e c'è stato un momento di giubilo, insomma, diciamolo pure così. Sì, abbiamo affiato tutti i presenti con la bottiglia classica, come che si fa nelle grandi occasioni, è stato così, è stato bello, insomma, è emozionante. Cose che si provano, speriamo non una volta nella vita, speriamo che a Parigi succeda qualcos'altro, insomma, ecco, sì. Sì, sente orgoglioso, comunque lei l'ha visto crescere, Mirko, come atleta? Sì, sì, come è crescere un ragazzino, è venuto qua che era un ragazzino, è cresciuto una buona volta, si è visto subito che aveva delle capacità, era talentuoso fisicamente e anche non, insomma, preciso nelle scelte, negli obiettivi, la giusta fantasia per raggiungere obiettivi al limite dell'impossibilità, comunque anche nella bella testa, insomma, ecco, perché ci vuole anche quella, insomma, ecco, perché l'atleta è forte, importante, è competitivo quando ha tutte le cose in giusto equilibrio, insomma, ecco, una cosa fuori posto, troppo o poco, mette tutte le altre in squilibrio, insomma, ecco, questo è la sua dotte, insomma, particolare. Dopo la premiazione vi siete anche sentiti? Sì, 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 beh, come al solito, gli ho detto delle parolasse, perché io con lui ho un rapporto diretto, che poi l'ha messo anche nel giornale, insomma, perché lo chiamo il fanullone, io, no? Lo chiamo il fanullone, perché in fondo, sì, sei andato a fare il militare, sei un mangiapane a tradimento, no? Sì, quello che si usa a dire, insomma, ecco, che poi, beh, il posto se l'ha guadagnato lui, veramente, e allora gli ho detto, sei un fanullone, su sei hai fatto due prove, sei proprio un fanullone, no? Così, beh, c'è questo tipo di rapporto fra me e lui, insomma, ecco, di intesa e di complicità, potrei dire. Vedere Mirko crescere in questa palestra e poi arrivare alle Olimpiadi e vincere soprattutto una medaglia, come si sente in qualità di tecnico dello sport? Allora, l'emozione è stata grande, perché, insomma, abbiamo visto Mirko proprio muovere i primi passi e già il talento si vedeva da subito, si vedeva che c'era un potenziale altissimo. Però non si poteva immaginare mai che si sarebbe arrivato a questo livello, a questo punto. La bravura lì è stata proprio anche di lui, di lui come persona e della famiglia, che hanno sempre saputo gestire questo talento in modo corretto. Sarà un esempio anche per gli altri questo percorso di Mirko. Chiaramente non succede tutti i giorni che un proprio atleta arrivi alle Olimpiadi e sicuramente vince una medaglia, è un motivo anche di orgoglio vostro il lavoro che è stato fatto? Sì, è un orgoglio prima di tutto per il centro sportivo dell'esercito, che l'ha ruolato nel 2014, ma poi anche per l'ambiente di Pordenone che l'ha visto crescere, l'ha visto migliorare giorno su giorno, l'ha visto anche soffrire in momenti di difficoltà, ha visto tutti i suoi momenti di difficoltà, perché dietro una prestazione così tutti guardano il risultato finale, il pacchetto finale, ma le sofferenze, i sacrifici, noi li abbiamo vissuti giorno per giorno, quindi quello rende la cosa ancora più emozionante. Il supporto è stato soprattutto emotivo e morale, di sostegno emotivo e morale. In alcuni frangenti è rientrato qui in palestra per allenarsi, ma lui ogni volta che entra qui è come se fosse sempre di casa. Questa è la sua casa e sarà sempre la sua casa. Grazie a tutti. Che cosa è emerso da questo incontro? Allora, intanto l'evento era organizzato dal Partito Democratico, ma devo dire che c'era presente anche il candidato sindaco del centro-sinistra per Pordenone. Devo dire che il sottosegretario Amendola ha avuto un approccio molto franco, quasi da non politico, molto pragmatico, ci ha illustrato in modo molto chiaro cosa significa oggi per l'Italia aver raggiunto questo obiettivo, avere questa disponibilità economica che l'Europa ci mette a disposizione, che dobbiamo a questo punto non polemizzare, ma fare tutta una serie di riforme che sono fondamentali per dar seguito all'utilizzo di quei fondi. E quindi devo dire che in tutto questo ha avuto l'appoggio di tutti, perché non sono valutazioni di una parte politica, ma sono valutazioni di persone con la testa sulle spalle che hanno a cuore il futuro del proprio Paese e dell'Europa. La maggior parte sono intervenuti dal Presidente Agrusti, al Sottoscritto, al Dottor Penna, al Presidente Raffiera, al rappresentante della Coldiretti, al Presidente degli Artigiani. Ognuno ha esposto praticamente i gioielli di famigliati, nel senso che ha voluto far capire come questa realtà territoriale si è ricca di eventi, di opportunità, una realtà che ha raggiunto obiettivi a livello nazionale, ma anche mondiale, come la fabbrica Modello e altri esempi. Il nostro rappresentante, Dottor Penna, ha per esempio indicato delle tematiche che, ahimè, sono dolenti, come lo spopolamento di tutte le zone montane. Che corrisponde con lo spopolamento dei servizi a disposizione dei pochi cittadini, dall'elevata età dei cittadini di tutto il frio di Venezia Giulia e da un'opportunità che si chiama turismo che va rafforzata e quindi questo per far capire anche quali sono gli elementi negativi, cioè non è che ci dobbiamo elogiare. Il mio invece intervento, da incaricato Alcese e da, non dico esperto, ma sicuramente collaudato imprenditore che tratta da 13 anni politico e comunitario in sede a Bruxelles, ha voluto riguardare un po' l'utilizzo di questi fondi, il fatto che non ci dobbiamo crogiolare su quella che è una posizione, come dire, di vantaggio del nostro territorio rispetto ad altre d'Italia, perché in Europa non c'è il frio di Venezia Giulia come non c'è la Lombardia, ma c'è tutta Italia. C'è anche, ahimè, non perché ci sia, perché secondo me io sono nazionalista e quindi ritengo che l'Italia parta dalla punta della Sicilia fino a Bolzano, ma la realtà del Sud Italia purtroppo ha rischiato di perdere anche in questo settegno i finanziamenti comunitari e dobbiamo, tra virgolette, ammesso che si possa dire, ringraziare il Covid se li abbiamo potuti spendere, perché non erano stati utilizzati e per anni abbiamo avuto la fortuna di rivederci finanziare questi fondi, ma sempre con risposte molto negative. È il momento di reagire perché l'Italia è una sola e in Europa c'è, ribadisco, tutta l'Italia. Questo gap tra il nord e il sud va recuperato velocemente. Ho evidenziato anche la nascita dell'Agenzia per il territorio e per la coesione, voluta dall'allora Ministro Barca, che era nata con la finalità di sostituirsi in caso di inadempienza da parte delle varie regioni e ho visto da parte del sottosegretario una smorfia, come dire, non funziona, cioè è quasi una struttura inutile. Ecco, quindi su questo ci siamo trovati pienamente d'accordo, ho anche chiesto che ci sia un ulteriore appoggio sul tema della rigenerazione urbana. Il PNRR ha già previsto dei fondi, Pordenone stessa, dobbiamo ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale di Pordenone per essere uno dei partecipanti e vincitori del bando Pinqua con dei finanziamenti molto importanti. La rigenerazione urbana è un tema strategico per tutti. ho chiesto anche come componente del Cese europeo al sottosegretario di farsi carico, di creare un tavolo di concertazione fra tutti i partecipanti italiani all'interno del Cese, perché l'Italia deve avere, secondo me, una politica unitaria da parte di tutti i propri rappresentanti, dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte e quindi un coordinamento delle sinergie fra tutte queste componenti sono strategiche. Spero che il sottosegretario dia seguito a questo impegno che tra virgolette ha voluto prendersi e quindi con questo poi ci siamo lasciati. Ho finito il tutto con una battuta perché diversamente dai soliti politici il sottosegretario a Mendola non si è preoccupato di dare in testa agli altri partiti, ma come dicevo di essere pragmatico e alla fine gli ho chiesto se si è draghizzato o se è sempre stato così e quindi si è messo a ridere e con questo ci siamo salutati. Sicuramente sono emerse tante tematiche importanti. Per quanto riguarda quindi la destra tagliamento, Friuli Occidentale, dove si dovrebbe partire con questi investimenti, quali sono i punti principali visto che è stato menzionato anche lo spopolamento delle montagne e chiaramente è un problema questo? Allora, intanto rischio di ripetere cose che i nostri telespettatori sanno già, si è ribadito la strategicità del porto di Trieste. Verranno investiti molti denari sul porto di Trieste, diventerà un porto europeo perché ha tutta una serie di caratteristiche che altri porti d'Italia non hanno, fondali molto profondi e quindi tutto ciò che si legherà in termini di logistica con lo stesso porto, per cui l'interporto di Pordenone ed altre realtà diventeranno strategici. Quindi la politica comunitaria tutto sommato porterà di grossi benefici anche a casa nostra, non solo per gli investimenti che verranno fatti, ma perché finalmente si dovranno abbattere dei campanini che fino adesso hanno creato problemi a casa nostra. Grazie allora ad Alberto Marchiori come sempre per il suo contributo, ci rivedremo prossimamente. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Esce di strada con la Vespa e muore tragedia ieri sera a Sernaglia della Battaglia nella marca Trevigiana al servizio di Alessio Conforti. Un uomo di 52 anni ha perso la vita ieri sera a Sernaglia della Battaglia nel Trevigiano dopo essere uscito di strada con la propria Vespa Piaggio. La vittima, Lino Zannoni, attorno alle 20 stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo quando improvvisamente in via Castello ha perso il controllo della due ruote finendo prima nel campo a destra della carreggiata e poi contro il muretto di un'abitazione. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del Suem 118 che non ha potuto far altro alla fine che constatare il decesso a seguito delle gravi ferite riportate. Zannoni era molto conosciuto a Sernaglia della Battaglia dove gestiva la gelatteria Fontanelle. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto. Si chiamava Igor Dallatorre, l'uomo che ha perso la vita a 41 anni nel tragico incidente avvenuto a Meduno nel tardo pomeriggio di sabato. Stava percorrendo un rettilineo in via Spilimbergo, strada che collega Solimbergo, frazione di Sequals, a Meduno quando ha perso il controllo dell'auto una Mazda 2. La vettura si è capottata e dopo varie rotazioni ha terminato la sua corsa in un campo a circa 30 metri dalla strada, completamente distrutta. Nell'urto l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e proiettato a metri di distanza, morendo sul colpo. I soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri di Meduno sono giunti subito sul posto ma per il 41enne non c'era più nulla da fare. Igor Dallatorre era residente a Solimbergo di Sequals ma originario di San Giovanni di Casarsa. Lascia tre figli. Grave incidente anche a Pertegada sabato notte. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una due ruote ad avere la peggio la donna sul lato passeggeri del veicolo che ora rischia l'amputazione di un braccio. Sentiamo. Erano circa le 23 di sabato 24 luglio quando lungo la strada regionale 354 all'altezza di Pertegada si è verificato un grave incidente. A scontrarsi una vettura e una moto con in sella un ragazzo e una ragazza rotolati sull'asfalto per diversi metri procurandosi ferite che fortunatamente non risulterebbero gravi. A bordo invece della macchina coinvolta una coppia di anziani, una donna russa sul posto del passeggero e un uomo al volante. Nel forte scontro ad avere la peggio la cittadina russa è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto si sono precipitate due ambulanze inviate dalla Sores di Palmanova mentre da Campoformido è decollato l'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di la tisana. I pompieri e le squadre mediche hanno operato in sinergia al fine di stabilizzare la donna all'interno del veicolo nel tentativo di salvare un braccio che ora rischia l'amputazione. È stata quindi trasportata d'urgenza in volo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni anche a causa di una serie di fratture multiple che ha riportato. L'uomo è stato invece trasportato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza mentre i due giovani in sella al due ruote sono stati trasferiti all'ospedale di La Tisana. Notevoli disagi causati al traffico con code fino a 2 km e rallentamenti anche di circa 40 minuti. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di La Tisana intervenuti sul posto per i rilievi, la gestione della viabilità e tutti gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco sono a lavoro in questi minuti a Caorle in località Brussa a seguito di un trattore rovesciato in un canale nei pressi del ristorante Mazzarac lungo la strada provinciale 51. Sul posto c'è il nucleo dei sommozzatori. Ci sarebbe, secondo le prime informazioni, una persona ferita. Maggiori aggiornamenti arriveranno nel corso del telegiornale. Siamo adesso in compagnia di Laura Recchia, segretaria regionale Rinascimento Sgarbi, che io ringrazio per essere qui con noi questa sera. Grazie, grazie a voi per l'invito. Il 28 luglio è la giornata mondiale delle patite. Come partecipate voi come Rinascimento Sgarbi a questa iniziativa? Sì, la giornata mondiale delle patite che è stata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità si svolge appunto il 28 luglio di ogni anno e ha l'obiettivo di richiamare l'opinione pubblica su problema globale dell'epatite virale e favorire la prevenzione, la diagnosi e il trattamento precoce. Rinascimento Sgarbi come partecipa? Rinascimento Sgarbi dedica un'attenzione particolare a tutte le patologie che coinvolgono la collettività, soprattutto quelle molto virali, quelle rare e quelle non riconosciute ancora. Dal 2016 i vari stati del mondo hanno deciso di partecipare al programma dell'OMS con lo scopo di elidere l'epatite virale entro il 2030. Quindi sappiamo purtroppo che l'epatite è la seconda e principale malattia infettiva grave dopo l'HIV, la tubercolosi, le persone si infettano nove volte di più rispetto all'HIV. Quindi è molto importante cercare di fare diagnosi precoce perché è sufficiente un semplice test per salvare molte vite e il rischio maggiore per i soggetti affetti dà più patologie e quindi sono i più fragili ovviamente. Quindi possiamo riassumere nella conoscenza della prevenzione, l'esecuzione dei test, la cura. Rinascimento Sgarbi pone all'attenzione ai temi relativi alla salute pubblica e in occasione di questa giornata mondiale presenta un video che sarà disponibile sia nel nostro blog che in Facebook che lo doneremo anche a Tele Pordenone con molto piacere, grazie a voi, per presentare un punto di questo tema molto importante grazie a delle professioniste dell'ospedale civile di Pordenone che sensibilizzeranno la comunità nei confronti dell'epatite offrendo delle spiegazioni corrette e dei giusti consigli. Sembra importante far luce anche su queste malattie che magari passano in secondo piano spesso visto anche l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Per quanto riguarda invece un'altra giornata, quella dell'amicizia, il 30 luglio, che cosa avete preparato? Questa è una giornata sempre internazionale dell'amicizia e si celebra appunto ogni anno del 30 luglio ed è stata proclamata nel 2011 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di stimolare la promozione di azioni di pace e costruire ponti tra le diverse comunità, quello che il Rinascimento Sgarbi sta cercando di fare perché già abbiamo molte comunità che ci sono vicine in questo nostro percorso culturale. È un'iniziativa che segue la proposta fatta dall'UNESCO, cioè di definire la cultura della pace come un insieme di valori, atteggiamenti, un insieme di comportamenti che rispingono la violenza e si sforzano di prevenire i conflitti affrontando le loro cause alla radice per risolvere i problemi alla base. Noi come Rinascimento Sgarbi desideriamo celebrare questa ricorrenza insieme alla cittadinanza presentando le persone che vi aderiscono, mettendosi a disposizione dei bisogni di ogni cittadino e questo lo stiamo facendo da ben cinque anni. Ricordiamo che il blog Rinascimento Sgarbi è a disposizione della comunità per approfondimenti tematici e arricchimenti culturali e tutti possono accedervi senza bisogno di iscrizione. Quindi veramente libero a tutti e questa è una giornata carica di buoni sentimenti, quindi noi siamo felici di condividerla. Qualcosa di positivo ci sta. Ogni tanto serve anche quello. Grazie allora Laura Mecchia per il suo contributo, ci rivedremo prossimamente, grazie per essere stata con noi. Grazie. Grave incidente stradale intorno alle 16.30 di oggi lungo la strada regionale 353 nel comune di Pozzuolo del Friuli. Tre mezzi coinvolti nello scontro, due auto e un furgone. Per causa il vaglio della polizia locale intervenuta sul posto lo scontro tra i veicoli è stato frontale e l'impatto violento ha causato ferite a tre persone di cui uno in gravi condizioni che è stato trasportato con l'elissoccorso all'ospedale Cattinara di Trieste. Altre due persone all'interno dell'altro autovoicolo coinvolto sono rimaste seriamente ferite. Coinvolto anche un furgoncino dal quale il conducente è sceso autonomamente rimasto illeso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco insieme all'ambulanza e all'elicottero. Inevitabili disagi al traffico dovuti anche alla momentanea chiusura della strada per permettere ai soccorritori di operare sui feriti in sicurezza. Domenica di mare mosso e interventi dei bagnini di salvataggio. Ad una verde ha perso la vita un 51enne. Il servizio di Alessio Conforti. Fa il bagno a largo con il mare mosso assieme al figlio ma va in difficoltà e muore. Tragedia ieri mattina sulla spiaggia libera di Duna Verde a Caorle a perdere la vita un turista di nazionalità irlandese 51 anni che nonostante le condizioni dell'acqua aveva deciso comunque di fare qualche bracciata ma qualcosa è andato storto forse per un malore o proprio per il mare mosso. Sta di fatto che il figlio della vittima a 16 anni ha raggiunto il padre provando a salvarlo inutilmente. Il giovane estremato è stato elitrasportato poi all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Sul posto oltre al 118 è intervenuta la Capitaneria di Porto per le indagini di legge. Quattro persone sono state soccorse ieri pomeriggio invece a Bibione tra le 14 e le 18 tutte a seguito del bagno in mare. Due di queste sono state condotte in ospedale uno a Sandona di Piave si tratta di un quarantenne pakistano e uno a Porto Gruaro un cinquantenne belga. Su tutta la costa veneziana ieri sventolava la bandiera rossa e le condizioni erano particolarmente difficoltose. A Eraclea un turista albanese di 40 anni ha rischiato la vita nel primo pomeriggio dopo essersi tuffato in acqua finendo a largo. I bagnini alla fine sono riusciti a portarlo in salvo. Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia temporali forti sono previsti fino alla mezzanotte di oggi. L'allerta di ramata sabato dalla protezione civile regionale è stata aggiornata questa mattina. Il livello giallo è stato esteso in tutta la regione. Previste quindi precipitazioni localmente intense questa sera fino alla notte. Da domani probabile nuvolosità variabile con locali rovesci o temporali alternati con maggiore presenza di sole. Sanitari non vaccinati che sono stati sospesi. Il punto di vista di chi è stato colpito dal provvedimento nelle parole di Vito Clauta, avvocato e presidente del CODA CONS Friuli Venezia Giulia, che questa mattina ha organizzato una riunione nel suo studio a Pordenone per fare il punto della situazione con alcuni dei diretti interessati. Non è escluso che qualcuno faccia ricorso. Avvocato, questa mattina riunione per parlare delle persone sospese dall'ordine dei medici e degli infermieri in quanto non si sono sottoposte al vaccino. Cosa vi aspettate? Adesso faremo in modo di illustrare la situazione giuridica e un po' medica anche. Decideremo se fare il ricorso o i tipi di ricorsi che sono più qualificati per salvaguardare la loro situazione. Vedremo di ottenere la revoca della sospensione perché la gente ha bisogno di lavorare e di mandare avanti la famiglia. Vedremo quello che potremo fare sulla base anche della volontà anche delle persone di affrontare un problema di questo tipo perché è sempre un discorso giuridico ed in particolare in questo caso sono cause nuovissime, non c'è giurisprudenza di nessun tipo e vedremo come i giudici si approcceranno a loro volta a quello che scriviamo noi nei ricorsi. Una volta ricevuta la notifica della sospensione, loro come e in quanto tempo possono procedere? Allora già nell'atto di sospensiva si dice che possono fare ricorso entro 60 giorni ma la persona che viene sospesa non lavora già dal momento in cui riceve la sospensione. Quindi è un danno che si verifica immediatamente nei confronti delle persone e quindi conseguentemente dovremmo agire quanto prima. Ogni storia è diversa ma secondo lei i motivi principali per cui hanno scelto di non sottoporsi del vaccino? Quali sono? Il fatto che il vaccino da una parte non serva molto, anche lo dimostra il fatto che quelli che sono stati vaccinati possono avere il Covid-19 lo stesso, dall'altra perché non sono stati testati e conseguentemente non si sanno le conseguenze di questi vaccini e poi un'altra cosa importante che non si conosce l'effetto che fa all'interno di ogni singolo corpo quelle sostanze che possono fare nel nostro corpo. Quindi bisogna stare attenti a dimmettere cose di cui neanche i medici sanno le conseguenze. Questa è la prima volta in cui dovrò, con il valido aiuto del mio collega, dovremmo difendere dei medici da dei provvedimenti di sospensione che non hanno precedenti nella storia della Repubblica. Quando eravamo all'università, tutti e due abbiamo fatto la stessa università. Io mi ricordo quando i nostri maestri dell'università ci parlavano dei padri costituenti, della lotta per la democrazia, per i diritti e noi un po' ringraziavamo questi nostri antenati che avevano combattuto per noi pensando, beh, tanto noi abbiamo fatto più niente. Invece per la prima volta in vita mia mi rendo conto che l'estesso fondamento dello Stato di diritto rischia di essere minacciata e il diritto a non vaccinarsi secondo me è un diritto fondamentale perché nessuno può essere costretto a subire su di sé una vaccinazione sperimentale di cui non si sa nulla, soprattutto nel lungo periodo, tra 3, 5, 10 anni non lo sa nessuno neanche le case farmaceutiche, per questo noi ci battiamo. In discussione l'abeas corpus, non più solamente all'esterno come era un tempo, secoli fa, ma proprio all'interno del proprio corpo. Noi dobbiamo garantire la libertà, l'autodeterminazione di tutti, i diritti fondamentali di tutti, per noi è una questione di principio. Se i vaccini fossero davvero sicuri, vaccini ottenuti in sei mesi quando normalmente servono anche sei anni o più, se i vaccini fossero davvero sicuri non ci sarebbe alcuna necessità di introdurre quella clausola cosiddetta scudo penale che è una causa di esclusione della punibilità anche per delitti molto gravi, penso all'omicidio colposo, in favore di chi procede alle vaccinazioni. Quindi c'è una clausola di legge nella normativa in vigore, normativa imperativa, derogatoria, grandemente problematica, che viceversa conferma come sia in atto una sperimentazione di massa dalla quale tutti hanno diritto di astenersi volendo. Continuano le proteste contro la rimodulazione del Green Pass che entrerà in vigore dal 6 agosto. Questa volta è stato preso di mira il murales a Vivaro che raffigura il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Figliuolo. Scritte offensive nei suoi confronti e nei confronti del provvedimento segnalano lo scontento di alcuni cittadini che non vogliono essere costretti alla vaccinazione contro il Covid-19. Nell'ultima settimana di luglio si è registrato un picco in positivo per quanto riguarda la prenotazione del vaccino contro il Covid-19 da parte di cittadini under 30, i particolari nel servizio di Edoardo Anese. Nell'ultima settimana di luglio in Friuli, Venezia, Giulia da parte dei giovani c'è stato un picco positivo delle prenotazioni del vaccino contro il Covid-19. A parlare sono i dati dei quali emerge che delle 28.622 richieste dal 19 al 24 luglio ben 11.830 appartengano alla fascia d'età sotto i 30 anni. Una dimostrazione di responsabilità e senso pratico che fa onore alle giovani generazioni che hanno compreso subito che la vaccinazione è la vera soluzione per riprenderci tutti, libertà e una vita normale al più presto. A dichiararlo il vice governatore del Friuli, Venezia, Giulia con Delega alla Salute, Riccardo Riccardi, commentando gli ultimi dati relativi alle prenotazioni dei vaccini nell'ultima settimana. La situazione in Friuli, Venezia, Giulia non desta allarme, avendo al momento un tasso di positività sotto l'1%, fortemente in rialzo in altre aree del paese, continua Riccardi. La decisione di questi giorni di prenotare le vaccinazioni di molti ragazzi credo nasca dalla consapevolezza che si tratta di uno strumento che consentirà loro l'agibilità in tutti i settori della loro vita, dalla professione alla mobilità fino al tempo libero. Ciò che si evince osservando l'andamento delle prenotazioni a luglio dopo l'annuncio del Green Pass in vigore della prossimo 6 agosto è il fatto che le prenotazioni stesse hanno subito un incremento esponenziale. A parte la giornata del 5 luglio in cui si erano registrate 2.559 adesioni alla campagna vaccinale, l'avvio del mese si è attestato su una media che non ha superato quasi mai le 2.000 unità al giorno. La tendenza all'aumento si è registrata nella terza settimana, marcandosi dal 19 luglio con richieste oltre le 3.000 al giorno. E qui con noi adesso Marco Sartini, sindaco di Porcia che io ringrazio per essere in nostra compagnia. Novità per quanto riguarda il comune di Porcia, recentemente lei ha firmato un'ordinanza che chiude la barchessa est di Villa Correr Dolphin, come mai ha preso questa decisione? Era da diversi anni, dal 2015 che venivano segnalate delle crepe tra il corpo alto e quello basso della barchessa est di Villa Dolphin, una segnalazione del consigliere comunale di opposizione nel 2016 Claudio Turquette, oggi assessore all'urbanistica, faceva notare che quelle crepe andavano sistemate. Per 5 anni non è stato fatto nulla, abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo mandato un professionista, un tecnico a fare le valutazioni, quindi ha fatto le valutazioni rispetto a questi due corpi di fabbrica che si muovono indipendentemente uno dall'altro e hanno creato una frattura che verrà sanata e poi ha allargato lo sguardo verso la situazione complessiva dell'immobile e ci ha fatto presente che ci sono altre cose da sistemare che hanno una rilevanza peggiore rispetto a quelle fratture che sono visibili anche dalla strada. Come conseguenza di quelle osservazioni, di quella relazione abbiamo preso atto di una situazione che deve essere sistemata e nelle osservazioni dello strutturista c'è anche il tema che riguarda l'incolumità pubblica per cui non essendoci un pericolo grave e imminente ma un pericolo che c'è sull'immobile, c'è l'estate che sta venendo avanti, a settembre riparte la scuola di musica, però abbiamo preso una decisione difficile cioè quella di interdire l'uso del piano sottotetto e in accordo con la scuola di musica e con la scuola del plesso dell'istituto comprensivo abbiamo spostato alcune aule della scuola di musica a Sant'Antonio, alle scuole elementari e alle ex scuole elementari di Pieve quando sono disponibili, quindi mettendo in sicurezza gli allievi e la struttura. Adesso questo percorso di progetto sta andando avanti, verrà consegnato presumibilmente il progetto esecutivo che ci permette di andare a cantiere entro fine dell'anno, poi cantierare e sistemare questi problemi di staticità. Se faccio un conto, un aggiornamento complessivo, per un anno il sottotetto della barchessa verrà interdetto all'utilizzo. Per quanto riguarda invece le prossime opere pubbliche, che cosa avete imminente? Ecco, c'è un'opera pubblica che è iniziata a metà marzo, che riguarda la sistemazione di una sponda, quella dell'Aveo del Rio Bouillon, che è stata risistemata, abbiamo creato delle piazzole di sosta, un percorso pedonabile anche dalle carrozzine, sia dai disabili ma anche dalle mamme con le carrozzine, abbiamo creato una scala per accedere meglio all'Aveo del Rio Bouillon. È stato fermo il cantiere per alcune settimane perché mancavano i collaudi delle strutture che arriveranno questa settimana. L'unica cosa che ci manca sono le panchine ordinate dieci settimane fa, c'è la filiera dell'industria che è un po' in ritardo, allora abbiamo deciso di aprire comunque, perché ci stiamo affacciando ad agosto e quindi è giusto che le persone possano frequentare quello spazio naturalistico e faremo probabilmente l'inaugurazione ufficiale a settembre con l'arrivo, spero, delle panchine per chiudere questo percorso. Infine parliamo di Biciplan, c'è un questionario online che ha una scadenza imminente. Sì, ci tenevo a dirlo perché scade il 31 luglio il questionario online che abbiamo messo nel nostro sito comunale che potete trovare facilmente, dove i cittadini di Porcia possono compilare e darci alcune indicazioni sulla mobilità lenta. Stiamo facendo questo livello di pianificazione sulla mobilità delle ciclabili, ci sono tre domande a risposta vincolata e poi ci sono però dei form, delle parti nelle quali i cittadini possono dare informazioni aggiuntive, osservazioni su delle cose che possono rilevare sul territorio che riguardano la ciclabilità. Abbiamo già un buon numero di cittadini che sono intervenuti e ci hanno dato il loro parere, fino al 31 è possibile continuare a farlo, aumenterà la platea delle richieste e del contributo dei cittadini quindi per fare un lavoro ancora migliore. Poi questo livello di pianificazione verrà integrato con un altro piano che si chiama piano per la eliminazione delle barriere architettoniche e quindi dovranno interagire insieme con il terzo livello di pianificazione che è quello della mobilità, il piano del traffico, quindi Biciplan si occupa di mobilità lenta, di bicicletta e il piano del traffico della mobilità delle automobili e dei camion. Faremo lavorare insieme questi tre livelli per raggiungere un obiettivo ancora migliore. Grazie allora al sindaco Marco Sartini per essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie a voi. Due collezioni con oltre 500 fotografie della storia di Pordenone e della storia del pugile primo Carnera. Sono solo un piccolo assaggio dell'immensa raccolta di immagini di Gino Argentin che abbiamo intervistato questo pomeriggio. Sentiamolo. Gino Argentin, la sua collezione è una collezione di una vita, è esposta qui in fiera a Pordenone. Che cosa ci può raccontare delle foto che ha raccolto in tutti questi anni? Questa è una grande passione, però la passione per la storia vale la pena. Io ho cominciato già da bambino a prendere sui manifesti che buttavano sugli aerei americani nel 1944 e da quel momento non mi sono mai fermato. Ho capito che raccogliere i documenti del passato è molto molto importante perché non c'è quasi nessuno che lo fa più. Invece noi non possiamo dimenticare il passato. Il presente esiste perché esiste un passato, se no non esisterebbe. Allora, adesso sono arrivato a avere 30 collezioni, qui sono solo due e ho già occupato metà padiglione che è 4.000 metri, ne ho occupati già 2.000 quasi. Pensate che qui ci sono solo due collezioni, come ho detto prima. Quella storia di Carnera, unica al mondo, 5.000 pezzi e Pordenone per immagini d'epoca che è questa qua, altre 5.000 pezzi, unica anche questa. Voi pensate che se dovessi mettere tutte le mie collezioni qua mi accorrerebbe ancora un altro padiglione che lo farò un altro anno. Un altro anno nel 2022 la fiera mi presterà anche quell'altro padiglione e le mie collezioni verranno tutte aperte, che tutti le vedano perché devono capire che bisogna trovare un posto per mettere questa storia qua. Perché qua? Perché un signore che si è interessato, forse chissà che mi faccia questo benedetto museo, una persona che non ha problemi di denaro, è appassionato come me e mi ha detto Argentina adesso ha un po' di tempo, fammi vedere che materiale che hai, che vedo sempre i giornali che parlano di questo e di quello. Ho detto non posso, benedetto, ho portato sul solaio che ho il materiale con questo tempo caldo qua. Mi è venuta l'idea di chiedere al direttore qui, al presidente della fiera, se mi ha detto sì sì. Loro hanno capito subito l'importanza di quello, mi ha detto sì subito. Allora qui abbiamo pulito che c'era un po' di polvere e ho sistemato qua. La sua città Pordenone è chiaramente raccontata attraverso queste immagini. Quali sono le... Sono cento anni di immagini d'epoca di una città. Noi se non avessimo queste foto non si saprebbe com'era il passato. Adesso una volta c'erano le rogge, adesso sono chiuse, c'erano dei ponti chiusi che quello, c'era la piccola casa, c'è un grattacielo. E questa è l'importanza che una città deve avere. Confronto per sapere come andare avanti, come progettare il futuro. Qual è l'immagine più vecchia? L'immagine più vecchia è del 1892 ed era una foto di un cotoneificio che è il cotoneficio di Torre che è il più antico. Però era autorizzata dal governo, è scritto sopra 1892, autorizzata dal governo perché era spionaggio industriale. Non si poteva fotografare in industria e mandarla. Era spionaggio industriale. Allora doveva essere chi ha fatto questa foto avere l'autorizzazione di averla fatta e gli hanno dato l'autorizzazione. E quella più rara è una foto del porto qui, del porto Unaonis, che è proprio scritto porto di Pordenone che sarebbe un po' più giù della Dogana, la ex Dogana. E ci sono 3-4 burchi che stanno scaricando del materiale, legnami o cosa. Pensa, ritorniamo indietro, di più di 100 anni. Questa è la più rara perché è l'unica cartolina che ha scritto porto di Pordenone, le altre ha scritto saluti e via dicendo. Questo è quindi un archivio vero e proprio di storia? Un archivio unico per un collezionista come me. Avere costruito 3-400 anni di storia attraverso le immagini è la più grande collezione del mondo messa insieme perché nessun collezionista può occupare due patiglioni di 4.000 metri e 4.000-8.000 mettendo uno vicino l'altro tutti i suoi documenti. Chi? Non esiste. A me non è un vanto, per me è una passione. Ti dico che ho lavorato tutta la vita ma io sono felice, ho 84 anni, magari che vado avanti ancora un po' di anni. L'intervista integrale con Gino Argentina andrà in onda domani sera nella nostra rubrica sotto la lente dopo il telegiornale. Ed è qui con noi adesso Anna Ciriani, candidata sindaca a Pordenone, io ringrazio per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie. Grazie. La campagna elettorale si è un po' accesa adesso a Pordenone, lei oggi ha postato sulla sua pagina Facebook una replica a quanto era stato detto dal sindaco attuale Alessandro Ciriani. Si è sentita un po' in dovere di spiegare alcune cose? Certo perché io nel senso sto facendo la mia campagna elettorale, sto andando avanti da sola con la mia lista, cerco il più possibile di non parlare degli altri candidati perché io faccio il mio e vado avanti con il mio. Chiaramente quando qualcuno dice qualcosa di me è giusto anche che io replichi perché sicuramente devo dire che il sindaco Alessandro Ciriani è stato poco carino nei miei confronti e quindi mi sono sentita al dovere di replicare. Oltretutto sì, ha fatto lui una contraddizione clamorosa perché poi dice tutto, il contrario di tutto. Allora ho voluto replicare anche in questo perché quello che io ho messo nel mio programma è una cosa che del resto quasi tutti mettono. Perché? Perché una cosa che vogliono fare i sindaci di solito in campagna elettorale è quello di cercare in tutti i modi di abbassare le tasse e i tributi nel comune che è una cosa che si fa e si può fare, non è una cosa che non è di competenza del comune. Oltretutto l'aveva messa anche lui. Quindi dire che io non lo potevo fare, che i comuni di solito non lo fanno, insomma mi sembrava una cosa come minimo da replicare. È ovvio che magari tanti dicono e dicono sempre le stesse cose, che abbassano le tasse e poi non fanno niente. È vero perché anche io lo dico da comune cittadina. Io anche cinque anni fa quando c'è stata la campagna elettorale che anch'io sono andata a votare da comune cittadina, tutti dicevano abbasseremo le tasse, abbasseremo le tasse. Poi di queste cose ne ho viste poco e niente. Quindi è inutile tanto promettere di abbassare le tasse e poi non mantenerlo. Meglio fare dei programmi giusti e non molto abbondanti, quindi non oltre 100-200 pagine, che poi non le legge nessuno. Io ho fatto un bel progetto, non molto ampio, giusto, con le cose che bisogna fare per Pordenone. Chiaramente ho già sentito altri programmi dove si propone ancora per cinque anni cantieri, cantieri, cantieri. Io non ne posso più di cantieri a Pordenone. Io nel mio programma ho messo anche molte cose e molti progetti per i giovani, per gli anziani, per le persone che vivono a Pordenone, per i disabili, per le donne, che sono spesso dimenticate e non ho sentito finora nessun candidato parlare di donne. E voglio dire, le donne non è solo la violenza alle donne, ma pensare alle donne anche nel senso di aiutarle per nuove start-up, per esempio commerciali, aiutarle con i figli. Molte donne sono da sole, hanno bambini piccoli, devono andare a lavorare e non c'è nessuno che le aiuta, anche economicamente. Aiutare le persone che hanno perso il lavoro, perché adesso anche con questo problema del Covid non è più la stessa cosa. Abbiamo cambiato il modo di vivere e non sappiamo neanche come andrà il futuro. Quindi io dico sempre, la politica non salverà il mondo. Quindi parlare di politica noi siamo una lista civica. Noi vogliamo ascoltare i cittadini e le cittadine di Pordenone, essere vicino a loro, cercare di fare rete anche con i cittadini, perché bisogna ascoltare, non imporre basta. Ascoltare i loro bisogni, perché è importante, perché la vita è una sola per tutti, non si sa come andremo nel futuro, bisogna essere uniti. Un sindaco o una sindaca deve ascoltare tutti. Io adesso faccio i mercati ogni mercoledì e sabato mattina, mi piace molto il contatto con le persone, il contatto con la gente. Molti mi vengono a salutare anche dei vostri affezionati telespettatori che mi dicono professore Salovista su Telepordenone. Saluto tutti, vi aspetto tutti e quindi io dico è bene stare vicini, uniti, fare dei progetti per tutti e pensare anche alle persone, non solo alle strade, non solo alle piazze, non solo agli edifici. Adesso utilizziamo il denaro anche per le persone che ne hanno bisogno sicuramente. Tra le varie cose che insomma sono emerse per quanto riguarda similitudini o differenze tra lei e il sindaco attuale Alessandro Ciriani è anche il logo, il simbolo della lista e anche i cartelloni che abbiamo iniziato a vedere in centro città. Lei come risponde a queste cose? È troppo simile secondo lei? Secondo me assolutamente no, perché io comunque ho fatto un simbolo nuovo, un simbolo colorato e non monocolore, dove appunto ho scritto lista civica in alto. Anna, ho messo il mio nome Anna, non ho lasciato solo Ciriani, avrei anche potuto perché Ciriani è anche il mio cognome e non lo posso cambiare, chiaramente. Anzi, diciamo che la famiglia Ciriani, io sono onorata di far parte della mia famiglia, la famiglia Ciriani, che è la famiglia importante che viene dal Friuli, da Manazzons, dove noi abbiamo ancora la casa di famiglia e quindi praticamente io sono nata a Pordenone, però ho sempre visto una Pordenone, sono di Pordenone e quindi conosco bene la mia città e i bisogni della mia città. Poi ho messo il cognome mio, chiaramente, e ho scritto sindaca invece che sindaco, proprio per evidenziare anche questa differenza di genere rispetto all'altro candidato che ha il mio stesso cognome ed è un maschio. Sotto poi ho messo la bandiera di Pordenone e la fascia della bandiera italiana e la bandiera di Pordenone e la bandiera italiana ce l'abbiamo solo noi, ce l'ha solo la mia lista e ce l'ha solo il mio simbolo. Non l'ho vista in altri e tantomeno in quello della lista civica di Alessandro Ciriani e poi sotto, con un bello sfondo bianco, ho messo hashtag Amiamo Pordenone che è il nostro motto. Oltretutto il nome Anna Ciriani l'ho messo con uno sfondo viola che poi diventa sempre più chiaro, arriva il fucsia lilla e mi avete visto anche nei manifesti con questo colore fucsia, no? Che è molto bello, proprio per distinguermi da tutti gli altri e nessuno ha usato davvero un colore caratteristico che è quello della mia lista. Quindi non l'ho visto da nessuna parte. Certo è che lo sfondo scuro ce l'hanno anche tanti altri partiti, perché se noi pensiamo al blu, ce l'hanno Fratelli d'Italia il blu, ce l'hanno La Lega, ce l'hanno quelli di Forza Italia, però nessuno ha detto avete il blu anche voi, avete il blu anche voi. Il rosso a sinistra, il rosso ce l'hanno quelli del PD, ce l'hanno quelli del Partito Comunista, ce l'hanno tantissimi altri e quindi è ovvio che poi i colori sono quelli, quelli dei simboli politici, però nessuno si lamenta e qui si vede che dà fastidio il cognome probabilmente, ma questo è il mio cognome, non ci posso fare niente, anzi ci sarà sempre. Certamente, tra le tematiche del programma che ha menzionato prima ha nominato anche l'attenzione ai giovani, in particolare su quale sarà il focus? Allora guarda, io diciamo rimango molto male quando, e non è da pochi giorni fa proprio che ho letto sul giornale, che dietro la stazione di Pordenone, nel parcheggio lì che c'è in via Candiani, hanno, la polizia ha preso 19 ragazzi, di cui 14 minorenni che vivono a Pordenone, di Pordenone, che facevano consumo di super alcolici e anche qualcuno, ho sentito appunto, gli hanno trovato della droga. 14 minorenni, 19, quindi non uno, due o tre, Tania, 19, sono tanti, guardate che è quasi una classe scolastica, io che sono un'insegnante lo so. Questa è la cosa che mi ha fatto inoridire, lo dico non solo come insegnante, ma lo dico anche come mamma, perché io sono una mamma di due figli giovani, ma dico, ma trovare 19 ragazzi lì, questo è una cosa grave, perché significa che, ma guardate che anche il comune ha la sua responsabilità di fronte a queste cose, il comune che deve prevenire queste situazioni, che deve aiutare queste famiglie, perché dietro a questi 19 ragazzi ci sono 19 famiglie, che probabilmente durante l'estate lavorano e non sanno a chi lasciare i figli. Quindi io ho fatto dei progetti nel mio programma rivolti ai giovani e il comune e le politiche sociali deve anche, diciamo così, fare qualcosa per questi ragazzi, che sicuramente non hanno nessuno, perché chi è che bada loro, no? Spesso sono da soli perché i genitori sono al lavoro, hanno altri problemi e quindi è giusto fare dei progetti per recuperare questi giovani, fare del volontariato, fare sport, fargli fare musica, no? Chiaramente, quindi anche con dei volontari più adulti che possono coinvolgerli, no? Quindi per tutta l'estate, perché molto spesso i punti verdi poi finiscono a luglio, il Drest finiscono e invece io voglio fare dei progetti che continuino per tutta l'estate, perché questi giovani non è giusto, guardate che i giovani sono il nostro futuro, il nostro futuro di Pordenone e quindi anche magari far fare dei corsi loro con il computer o dei recuperi scolastici, imparare le lingue, ma anche dei viaggi, perché no? Delle visite guidate, dei campeggi, questo è possibile. Quindi io mi impegnerò a fare tutto questo per i giovani, se diventerò sindaca, perché è importante, perché sono il nostro futuro. Grazie alla candidata Anna Ciriani per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ciao, venite a trovarmi al mercato. Ciao. Grazie per essere stata con noi. Diamo adesso la linea al Veneto con l'ospite in compagnia del collega Alessio Conforti. A voi la linea. Grazie Daniele Minotto dell'Associazione Veneziana Albergatori. Green Pass in primo piano, la vostra posizione e soprattutto le ripercussioni che vi attendete chiaramente a seguito delle ultime migliori del governo? Quello che noi ci attendiamo è una fase di chiarezza, perché fondamentalmente noi siamo favorevoli al Green Pass e tutte quelle che possono essere le iniziative utili a superare questa fase drammatica ancora che pervade di pandemia. Dobbiamo per forza arrivare a una definizione anche nei rapporti di lavoro con i nostri collaboratori e con quelli che sono gli ospiti che devono arrivare. Noi vediamo in questo momento una grande indecisione da parte di ospiti non solo quelli intercontinentali, ma anche quelli che non sono dell'Unione Europea, che ci stanno chiedendo tutti i giorni, ma possiamo venire, come verrà riconosciuto il vaccino che non è quello dell'Unione Europea, un equipollente del Green Pass. Bisogna fare un lavoro di grande attenzione per evitare che ci sia confusione che crea un ulteriore danno al settore. Ecco, poi insomma ci sarà da capire che cosa ne seguirà a questo Green Pass. Sappiamo che durerà nove mesi, ma è chiaro che poi tutto il comparto turistico, anche poi verso l'autunno e a seguire, dovrà chiaramente prendere una direzione, perché non è che si ferma ad agosto, a ferragosto, a settembre. Poi bisogna disciplinare anche un po' tutti i mesi a seguire, compreso anche le attività che lavorano. Beh, quello che si legge dal decreto, ovviamente siamo ancora in una fase di prime interpretazioni, quello che accade dal 6 di agosto dovrebbe andare via via increscendo, fin tanto che non si arriva a superare la fase di contagio che comunque sta crescendo. Anzi, saranno delle misure comportamentali che saranno necessarie anche a settembre quando saranno le aperture delle scuole, quindi in ogni caso tutte le misure, i protocolli non sono stati aboliti, quindi continueranno. Fino al 31 dicembre permane la situazione di emergenza e di conseguenza non è pensabile che nel breve si possa rimuovere questo tipo di misura. Deve essere fatta a chiarezza, ad esempio una delle cose che in questo momento c'è una grossa differenza tra quelli che sono i pubblici esercizi e la ristorazione e quello che avviene nell'ambito ricettivo, dove noi in teoria come struttura ricettiva non abbiamo l'obbligo di richiedere i green pass, lo deve avere ad esempio nel momento in cui una persona si siede al ristorante, se va al banco non è necessario e se seduta lo è. L'ospite dell'hotel che in questo momento magari utilizza anche il ristorante come alloggiato non si capisce ancora se siamo tenuti a chiedere il green pass oppure no. Quindi anche il chi sarà in grado di poterlo richiedere, a chi titolo, insomma bisogna che ci sia un atto forte da parte del governo di dover dare delle spiegazioni in chiare in modo che non ci sia un'ambiguità per davvero chi può esercitare questo potere di controllo che viene deputato in questo momento alle aziende. Occupazione alberghiera Venezia, come siamo? Ci stiamo allineando a quello che è stato il 2020, dove abbiamo una discreta presenza durante il fine settimana, non tutte le strutture sono aperte, sono circa un 70-80% di strutture che sono aperte nella città storica, un po' meno nella terraferma, vediamo dei buoni risultati appunto nel fine settimana e comunque anche una maggiore presenza durante il periodo dell'infrasettimanale. Quindi in questo momento siamo moderatamente ottimisti, ovviamente nei limiti di quello che può essere dei risultati che non sono sicuramente soddisfacenti, però comunque vediamo una crescita. Ecco, poi ci sono gli eventi che caratterizzano Venezia a fine agosto, con la mostra del cinema lì, insomma, diventano fondamentali. Lo sono sempre stati, ma quest'anno ancora di più, no? Come l'anno scorso? Tutti gli eventi si sono dimostrati comunque importanti, l'abbiamo visto con il Salone Lautico, l'abbiamo visto con l'apertura della Biennale. Sicuramente la mostra del cinema, in base poi anche a come verrà svolta, perché non è ancora chiaro le esatte modalità di tutti gli eventi, però comunque sicuramente porterà un interesse maggiore nella città. Quello che noi speriamo è che proprio dalla mostra del cinema inizi a riprendersi una sorta di normalità e quindi anche una ripartenza di quello che sono i numeri a cui eravamo abituati, sperando che poi con il carnevale fino a poi diventare una normale presenza importante dei turisti nella città. Grazie Daniele Minotto per essere stato con noi, Lina che può tornare a Pordenone. È tragico l'esito dei soccorsi a Caorle in località Brussa, dove nel tardo pomeriggio un trattore si è rovesciato in un canale che costeggia la provinciale 51 poco distante dal ristorante Mazzarac. Il nucleo sommossatori dei pompieri ha rinvenuto poco fa il corpo senza vita del conducente di cui ancora non si conoscono le generalità. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con l'autogru per recuperare il mezzo. L'esatta dinamica dell'incidente è al baglio dei carabinieri che stanno eseguendo i rilievi di legge. Cade per circa 20 metri durante un'escursione nella creta della Chianevate nelle Alpi Carniche, ferito un alpinista del 1975. Nella giornata di sabato sul pilastro centrale della creta della Chianevate nelle Alpi Carniche un alpinista di Rivignano di Teor classe 1975 ha subito una caduta mentre era impegnato nella salita del tratto più difficile della via stessa. La caduta è avvenuta per circa una ventina di metri ed è stata interrotta dalla corda. L'alpinista si è procurato una frattura ad un arto inferiore e altri traumi impattando contro la roccia. Lui e il suo compagno sono riusciti a calarsi fino alla base della parete. Autonomamente non è stato infatti possibile inviare sul posto gli ali soccorso regionale o meglio il tentativo di inviarlo è stato fatto ripetutamente ma la nebbia presente ha impedito l'avvicinamento alla parete. I soccorritori, 18 persone tra soccorso alpino della stazione di Forni a Voltri e guardia di finanza, si sono così divisi in due squadre. La prima è salita a rifugio Marinelli per poi scendere nella conca della Chianevate e l'altra è salita dal versante di Casera Collinetta. Una volta raggiunto il ferito è stato imbarellato e portato lungamente a spalle per poi venire caricato sul fuoristrada dei soccorritori e trasportato con questo lungo la pista forestale. Infine raggiunta l'ambulanza è stato affidato alle cure dei sanitari. Due infortuni nel pomeriggio hanno interessato due giovani. Il primo ha riguardato un turista austriaco 19enne che si è lanciato con il parapendio dal monte Valinis sopra Meduno ed è poi precipitato poco dopo essersi levato in volo. Ricoverato all'ospedale di Udine dove giunto con l'elissoccorso fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Il giovane si è procurato una probabile frattura ad un arto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino. L'intervento si è concluso intorno alle 15 e 30. Poco dopo è avvenuto il secondo infortunio in questo caso ad Artegna lungo il sentiero delle Cascate. Un quattordicenne di buia è scivolato all'interno di una pozza dove era presente un sasso sporgente che ha colpito provocandosi la frattura alla tibia e al perone. A soccorrere il ragazzo i tecnici della stazione di Udine e di Gemona e il medico del soccorso alpino. Il quattordicenne è stato stabilizzato, imbarellato e condotto a braccia lungo il sentiero fino all'ambulanza che attendeva sulla strada. Blitz e controlli della guardia di finanza nel Trevigiano, sequestrati 5.000 litri di vino. Il servizio. Due distinte operazioni hanno consentito alla guardia di finanza di sequestrare nella marca 5.000 litri di vino e oltre una tonnellata di zucchero a seguito di alcune violazioni emerse alla normativa di settore. Il primo Blitz ha portato al sequestro di 3.500 litri di prodotto imbottigliato e oltre una tonnellata di zucchero. I finanziari in precedenza avevano fermato a Codognè un veicolo commerciale che trasportava 396 bottiglie di vino bianco, prive di etichetta o indicazione di origine, spedite da un'azienda vitivinicola di Conegliano e destinate alla vendita nel torinese. I baschi verdi hanno voluto vederci chiaro approfondendo il controllo presso l'azienda mittente. Nel secondo intervento invece i finanziari hanno fermato e sottoposto a controllo a Valdobiadene, un veicolo commerciale che trasportava 984 bottiglie di bianco, spedite da un'azienda agricola del Bellunese nei confronti di un privato consumatore di Valdobiadene e dichiarato come prosecco doc sul documento di trasporto in assenza di qualsiasi etichetta o fascetta volta a certificare l'origine, la qualità e la sicurezza del vino. Anche in questo caso, dopo il sequestro amministrativo, l'ispezione è stata estesa all'azienda agricola, che aveva inviato il prodotto con il supporto della tenenza di Feltre, consentendo di sequestrare complessivamente altri 1185 litri di prosecco doc. Concludiamo con lo sport. L'allenatore neroverde Massimo Paci commenta la seconda amichevole stagionale e la conclusione del ritiro a Tarvizio. Il servizio. Mister Paci, seconda amichevole che di fatto chiude il ritiro di Tarvizio, che sensazioni hai avuto? Buone, sensazioni positive. Sicuramente di miglioramenti rispetto alla settimana scorsa, di miglioramenti sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista della mentalità. Ho visto una buona intensità. Naturalmente dobbiamo migliorare tanti aspetti del gioco, sia la fase non possesso o anche la fase di possesso fa migliorata, soprattutto giochi in verticale. Però questo fa parte del processo, quindi non mi spaventa. Sono contento della prestazione, sono contento di come i ragazzi hanno affrontato queste prime due settimane. Stiamo facendo piccoli passi in avanti, quindi adesso è un bilancio positivo. Nel primo tempo in particolare si è vista una squadra che comunque sa già cosa vuole. Sì, un certo senso di identità si inizia a vedere. Sono contento perché dopo due settimane non era facile. Significa che abbiamo un gruppo di ragazzi bravi, eccezionali, che sono disposti ad abbracciare il cambiamento. Perché si tratta di essere disposti a cambiare rispetto alla passata stagione. E quindi sono contento di avere questo gruppo di ragazzi, cercare di lavorare al massimo con loro per fare il massimo da tutti. E quello che sarà il nostro lavoro maggiore, cioè creare un'identità di gioco, creare un'identità di mentalità, quello sarà dove dovremo lavorare maggiormente. Come hai visto l'esordio di Pellegrini, Cupisch, Mensah e altri? Hanno fatto bene. Certi ragazzi sono arrivati da poco, altri hanno un po' più giorni di ritiro. Però sostanzialmente oggi è stato un buon test per tutti. Naturalmente c'è chi è un po' più indietro, c'è chi è un po' più avanti. Quelle sono valutazioni che poi devo fare io. Però sono molto contento dell'atteggiamento che stanno avendo i ragazzi. A prescindere l'amichevole sono proprio degli allenamenti, di quello che ci mettono durante gli allenamenti per provare a dare il meglio. Quindi sono contento. Un tuo bilancio del ritiro, visto come nuovo arrivo il tuo, come staff, come gruppo, cosa stai provando? Sicuramente è stato un inizio duro perché comunque il porterone calcio è una macchina importante. Quindi ho uno staff di lavoro eccezionale. Quando arrivi e sei nuovo per iniziare alle gare devi lavorarci sopra alle relazioni, soprattutto interpersonali. E quindi è stato un inizio abbastanza intenso sia per lo staff che per la squadra, giocatori nuovi, staff nuovo. È un inizio ricco di emozioni perché comunque sono un esordiente in questa categoria. Però sono contento perché il lavoro sta procedendo bene. Siamo carichi di entusiasmo, quello sì. abbiamo tanta voglia di dimostrare che possiamo far bene come squadra. Stiamo cercando di allacciare le relazioni non solo con la squadra ma con tutta la squadra che ruota intorno al Pordenone perché per noi è tanto importante quanto la squadra che scende in campo. E quindi si cerca di fare un lavoro a 360 gradi per poi provare a diventare la migliore squadra che possiamo essere. Nelle prossime settimane il livello delle avversarie aumenterà sempre più? Lui contro anche l'Atalanta che fa la Champions League è studiato questo percorso di crescita? Sì, abbiamo voluto fare amichevoli difficili. Anche oggi è stato un buon test contro una squadra che l'anno scorso faceva la Serie A slovena. Perché secondo me dalle amichevoli difficili è più facile notare gli errori. E dagli errori possiamo migliorare, possiamo crescere. Quindi si cercano in questi amichevoli le opportunità per crescere perché poi sostanzialmente è quello il nostro lavoro. Adesso abbiamo due amichevoli con squadre importanti, importantissime. La prima è l'Atalanta. Cercheremo di fare il massimo. Cercheremo poi dagli errori che verranno fuori di capire, di migliorare per essere pronti alla prima di campionato. E poi non è che il processo finisce. Dalla prima di campionato in poi cercheremo di arrivare nella miglior forma possibile. Ma poi da lì il processo di miglioramento deve continuare settimana dopo settimana. Ripeto, è un lavoro continuo, è un lavoro costante sui ragazzi, sul fisico, sulla tattica, sulla mentalità. È un lavoro a 360 gradi. E come hai seguito il sorteggio del calendario con curiosità? Sì, io sono molto fatalista. Le partite dovremmo affrontarle tutte contro tutte le squadre. Quindi cercheremo di arrivare pronti, cercheremo di essere competitivi. Nel senso che il calendario va bene, ma poi dovremmo affrontare tutte le squadre e dovremmo riuscire a dare un'identità. Diamo adesso la linea al Veneto con l'ospite in compagnia di Alessio Conforti a seguire il meteo, poi un breve break pubblicitario e tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi perché qui a Telepordenone l'informazione continua. Grazie consiglio a Reghini, consigliera comunale a Porto Gruano per Fosfati. So che vi state insomma organizzando come minoranza insomma per cercare di capire di fare il punto della situazione. Sì, buonasera a tutti. Il prossimo consiglio è domani. Abbiamo una modifica del piano delle opere pubbliche per il contributo regionale che ovviamente per la bonifica va chiaramente bene. Però la questione è un'altra. Sul progetto della Persosfati, peraltro in accordo con tutta la maggioranza comunque con diversi gruppi anche della maggioranza, abbiamo chiesto già in occasione del bilancio una commissione speciale che potesse affrontare direttamente il tema. Ancora non è partita questa commissione, credo sia importante portarla avanti anche perché visto che arrivano contributi o comunque sono possibilità anche di finanziamenti anche col PNRR, probabilmente potranno esserci delle opportunità, credo sia importante iniziare a individuare un'idea progettuale che abbia anche un senso per l'utilizzo perché al momento è di questo che dobbiamo ragionare ed è chiaro che una commissione speciale per come la vediamo noi come gruppo civici e democratici dovrebbe essere anche strutturata per far sì che ci siano anche delle persone degli stakeholder, delle persone esterne che possono essere delle associazioni in categoria, possono essere alcuni tipi di associazioni piuttosto che anche dei professionisti esterni, cioè in un'opera del genere che va a beneficio di una comunità da qui ai prossimi 30 anni che non si concluderà in due anni credo sia veramente fondamentale che la comunità partecipi anche con le sue maestranze migliori credo sia un progetto veramente da portare avanti, quindi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio il nostro capogruppo ha scritto nei giorni scorsi per avviare la procedura per definire come istituzionalizzare questa commissione speciale che riteniamo importante anche perché senza progetto poi non si riesce ad arrivare ai fondi, cioè i progetti sono strategici bisogna fare in fretta perché poi si riesce a rimanere tagliati fuori sì, questa è la grande questione legata proprio al PNRR e a tutti i fondi in generale è così però in questo momento sono tanti soldi e arriveranno velocemente e quando ci arriveranno ci sarà poco tempo per spenderli quindi su tutto ciò che è intervento ne abbiamo parlato anche recentemente per esempio con la salvaguardia idraulica e con le opere del Consorzio tutto quello che possiamo fare è essere pronti quindi è imperativo che le istituzioni e le amministrazioni siano pronte con i progetti da presentare perché se non c'è pronti non si avrà il tempo di progettare nel momento in cui arrivano i soldi quindi è fondamentale assolutamente avere le idee chiare e portarle avanti per tutta la comunità Pista ciclabile di Sumaga, siete un po' delusi del fatto che insomma perlomeno secondo quanto si capisce non si procederà nell'immediato a risolvere il problema della pista che termina lì e non collega il centro? Siamo un po' delusi, beh sì, siamo un po' delusi anche perché... Non è stato inserito nel piano triennale se non erro? No, non c'è nel piano triennale, non ancora, quantomeno è stato solo, se non ricordo male dovrebbe essere inserito un incarico, le risorse per affidare l'incarico per il progetto e quindi per avviare la cosa però quello che a noi preme non è quello di dire, perché ho sentito dichiarazioni da parte della maggioranza intanto abbiamo messo il paletto, ma intanto abbiamo messo il paletto io personalmente penso che le opere devono essere progettate in termini di visione, di programmazione cioè non è che posso dire, ah adesso 400 mila euro faccio la pista ma anche se manca un pezzo poi vedo dopo parto da un altro concetto, mi servono 2 milioni e 4 per fare un'opera? Bene, affido il primo stralcio, poi un secondo stralcio allora io ho una visione e avviso i cittadini del fatto che ho stralci se invece facciamo così e poi siamo, mi spiace dirlo, però l'abbiamo fatta ad aprile giugno 2020 eravamo in piena campagna elettorale, poi magari pensiamo male, però a pensare male a volte si imbrocca come si dice da noi, cioè insomma si poteva ragionare magari dicendo beh noi facciamo per una prima parte, non dire facciamo un ciclo pedonale, colleghiamo e non è poi così chiaro, chiaro, come abbiamo insomma avuto modo anche di sentire poi entrambe insomma le opinioni si ne accorceva detto che poi insomma si sarebbe intervenuto vedremo insomma che cosa accadrà, grazie a Silvia Reghini grazie e buonasera a tutti Lina che può tornare a Pordenone Buonasera a tutti, situazione meteorologica, vede ancora la possibilità di qualche temporale inserata sulla regione attenzione a qualche possibile fenomeno un po' più forte miglioramento poi nella notte, domani si ripresenterà variabilità con di nuovo qualche temporale nel pomeriggio non mancherà naturalmente qualche fase di sole, specialmente verso la bassa pianura della costa attenzione anche domani qualche possibile temporale più forte vento da sud, tratti sulla costa, manterrà umidità alta ma le temperature scendono un po' nel massimo probabilmente sotto i 30 gradi sia in pianura che lungo la costa avremo poi un relativo miglioramento mercoledì, specie pianura e costa vedranno più sole probabilità quasi nulla, molto bassa insomma di temporali almeno a tutt'oggi qualche isolato fenomeno invece possibile in montagna nel pomeriggio sempre miglioramento più deciso giovedì con aumento delle temperature e poi venerdì potrebbe tornare un po' di instabilità a partire dalla montagna ma soprattutto tornare alla fa sul pianura e costa direi che è tutto, ci aggiorniamo, una buona serata Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone apriamo questa nuova edizione con una notizia da buia perché ieri mattina poco dopo alle ore 4 i carabinieri della compagnia di Tolmezzo sono intervenuti a seguito di un'auto uscita dalla carreggiata e schiantata contro un muro un giovane di 30 anni avrebbe perso il controllo della sua vettura causando lo schianto fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi il giovane è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza sul posto anche i vigili del distaccamento di Gemona per la messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto fortunatamente il trentenne non risulta in pericolo di vita intorno alle ore 19 di sabato 24 luglio una donna di 64 anni di Gemona del Friuli mentre stava traversando il binario lungo la tratta Gemona-Osoppo è rimasta uccisa investita dal treno la donna stava inseguendo il proprio amico a quattro zampe che era fuggito nonostante il treno stesse viaggiando a una velocità relativamente bassa l'impatto è stato fatale provocando la morte della donna sul colpo inutile purtroppo i soccorsi da parte del personale medico inviato sul posto dalla Sores di Palmanova intervenuta anche la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco un escursionista austriaco del 1965 si è procurato una probabile frattura ad una gamba mentre risaliva da forcella la vinale dell'orso verso il sentiero Ceria-Merlone l'uomo ha perso aderenza al terreno a quota 2200 metri poggiando il piede su un sasso sdrucciolevole e impattando su una roccia sul posto è stato inviato l'elisocorso regionale mentre le squadre di terra facevano campo base a Sella Nevea assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza una volta raggiunti il tecnico vericellista calato medico e tecnico di elisocorso del soccorso alpino con una vericellata di circa 20 metri accanto al ferito una volta a bordo quest'ultimo è stato affidato all'ambulanza che attendeva a Sella Nevea nella giornata di ieri domenica 25 luglio si è tenuta presso la base militare di Muggia l'esibizione di due moto d'acqua della Polizia di Stato sentiamo adesso i particolari nel prossimo servizio nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Trieste ha eseguito una dimostrazione a mare nello spazio aqueo antistante la base militare logistico addestrativa di Muggia comandata dal tenente colonnello Antonio Iannacone e diretta dal maggiore Enzo Di Fazio due operatori della squadra nautica della questura hanno effettuato brevi esibizioni a bordo di due moto d'acqua destando l'interesse e l'apprezzamento degli ospiti della struttura militare che d'estate diventa centro di bagnazione e di aggregazione per i militari e loro familiari tornando ai mezzi nautici si tratta di moto Yamaha 180 cavalli, 1800 cilindrata 4 cilindri alimentate a benzina non hanno l'elica ma una propulsione a idrogetto che permette di raggiungere le persone in pericolo anche nei bassi fondali senza recare danni alle stesse sono dotate di dispositivi sonori e luminosi di emergenza insomma risultano essere vere e proprie volanti del mare maneggevoli e veloci in quanto possono raggiungere la velocità massima di 60 nodi quindi circa 100 km orari sono mezzi molto performanti e i presenti hanno apprezzato le loro evoluzioni anche grazie a queste unità navali la Polizia di Stato guarda al futuro puntando su importanti e funzionali innovazioni tecnologiche al fine di garantire anche in mare nei laghi, lungo i fiumi e lungo le coste la sicurezza dei bagnanti e di tutti coloro che assistono o partecipano ad eventi non soltanto ludici come possono essere regate veliche e gare di nuoto gli operatori svolgono infatti anche servizi di scorta imbarcazioni a personalità in occasioni di vertici ed eventi istituzionali a stretto contatto e meno visivo con le persone la presenza delle moto d'acqua contribuisce a rafforzare il concetto di sicurezza partecipata a una delle mission della Polizia di Stato che scende quotidianamente in strada in mare a tutela delle persone e per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica è prevista un'altra dimostrazione sempre nello specchio acqueo antistante alla base di Muggia sabato 31 luglio con inizio alle ore 16 mentre sono già in programma due simili momenti nella baia di Sistiana domenica 1 e sabato 14 agosto infatti con inizio alle ore 16 nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare Castelreggio si effettueranno due dimostrazioni al fine di evidenziare le potenzialità dei mezzi e l'utilizzo degli stessi durante simulazioni di soccorso a mare combinate e coordinate con gli assistenti bagnanti e ormai alle battute finali il nodo di Palmanova bivio tra la A4 e la A23 sulla quale si intrecciano le sei direttrici di traffico che portano verso Austria Slovenia, Centro-Est Europa e Nord Italia l'ultimo miglio è programmato per l'inizio di questa settimana quando verranno completati i lavori di asfaltatura sulla rampa Venezia-Udine gli interventi sono previsti tra le ore 20 di questa sera e le sei del mattino di domani martedì 27 luglio e tra le ore 20 di martedì e le ore 6 di mercoledì 28 la formazione della Polizia di Stato ha vinto il secondo Memorial Figli delle Stelle triangolare di calcio a 7 che si è svolto ieri sabato 24 luglio sul campo di Primoreca Treviciano sul Carso Triestino un'occasione leggera per ricordare i due colleghi Matteo De Menego e Pierluigi Rotta uccisi il 4 ottobre 2019 all'interno della questura di Trieste presenti anche i genitori di Matteo De Menego La stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino e speologico è intervenuta con 4 tecnici tra le ore 16 e 30 e le ore 17 e 30 di ieri per soccorrere una donna procuratasi una sospetta frattura alle caviglie durante un'escursione in un tratto dell'alta via Cai Pontebba a località Stampo Ben la donna una friulana del 1955 scivolata ruzzolando per 4 metri lungo un pendio a recuperare la signora è stato l'elisoccorso regionale che ha calato con una verricellata di una trentina di metri il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno provveduto a imbarellare e imbarcare a bordo la donna per portarla in ospedale oltre 20 le persone tratte in salvo dalla guardia costiera di Grado e Lignano a causa del forte evento di Scirocco che ha caratterizzato la giornata di ieri sentiamo i particolari nel prossimo servizio numerosi gli interventi di soccorso lungo litorale di Grado e Lignano nella giornata di ieri da parte della guardia costiera insieme ai vigili del fuoco coordinati dalla sala operativa della capitaneria di Porto Monfalcone nella presenza del forte evento che ha caratterizzato i due litorali ha messo in difficoltà diversi diportisti tra cui una famiglia con bambini che avevano deciso di trascorrere la giornata a bordo delle proprie imbarcazioni tra Banca d'Orio e l'isola di Santa Andrea il forte evento però ha causato diversi disagi alle imbarcazioni spingendone diverse verso la spiaggia tre barche si sono spiaggiate e una è addirittura affondata i diportisti si sono messi in salvo a rive e poi sono stati evacuati dalle unità della Guardia Costiera e dei pompieri al Banco d'Orio lungo il litorale gradese è intervenuto il battallo pneumatico GCB43 della Guardia Costiera di Grado con il supporto di un mezzo navale dei vigili del fuoco degli staccamenti di Monfalcone che è intervenuto navigando dal lato interno della laguna consentendo poi lo sbarco in sicurezza dei diportisti nel porto di Grado contemporaneamente anche al confine occidentale della regione sono intervenuti via mare nel battallo pneumatico GCB16 della Guardia Costiera di Lignano con il supporto della laguna di un mezzo navale dei vigili del fuoco dell'istaccamento di Lignano che hanno ricondotto sei persone in sicurezza nel porto di Lignano sabbia d'oro è stata prestata assistenza anche a un'altra unità con a bordo una coppia di Udine che aveva il motore in avaria in prossimità del canale della Litoranea Veneta al termine dell'intenso pomeriggio l'attività di soccorso interessato 5 natanti ha consentito di portare in salvo complessivamente 21 persone 19 adulti e 2 bambini tutti della zona per evitare situazioni di pericolo la Guardia Costiera raccomanda di verificare sempre prima di uscire in mare le previsioni meteo marine per la zona di interesse e l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo per emergenza in mare eventualmente ricorda che è sempre attivo il numero blu 1530 la giunta regionale ha presentato oggi un emandamento all'assestamento di bilancio che introduce nella manovra risorse per 162 milioni di euro da destinare alla concertazione con gli enti locali lo ha reso noto l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti spiegando che le risorse regionali sono destinate principalmente a investimenti concordati con i comuni per la realizzazione di opere pubbliche per garantire più servizi ai cittadini aprire cantiere e dare slancio alla ripresa economica in modo capillare sul territorio questa mattina 96 frequentatori del 212esimo corso di formazione per allievi agenti della polizia di stato hanno prestato giuramento presso la scuola allievi agenti di polizia dopo il giuramento rivolgendosi alle donne e agli uomini schierati il questore di Trieste Irene Titoni ha detto che oggi è il primo atto solenne del vostro percorso professionale nell'espletamento delle funzioni conferitevi dovrete sempre avere a mente quale vostra stella polare l'articolo 54 della nostra preziosa Costituzione il quale recita che le istituzioni si servono con disciplina e d'onore valori che unitamente a onestà giustizia e senso del dovere devono costituire la cifra del vostro agire quotidiano nell'agire quotidiano ha proseguito la dottoressa Irene Titoni dovete essere ad esempio per i cittadini improntando il vostro comportamento al massimo rispetto delle regole e della dignità della persona solvendo i compiti che vi verranno affidati con il massimo impegno facendovi concreti testimoni dei valori di onestà erettitudine a piazza palua a sapada è stata inaugurata la mostra fotografica obiettivo sapada realizzata dal circolo culturale fotografico il grandangolo di campo formido la mostra è stata ideata in collaborazione con la locale proloco e si sviluppa lungo il percorso ciclopedonale del golf club in località palu dove i fotografi della città del trattato hanno proposto la loro visione originale di sapada ieri sera l'elicottero del soccorso alpino ha tratto in salvo due giovani che durante un'escursione si sono trovati in un terreno impervio sentiamo nella giornata di ieri la stazione di moggio udinese del soccorso alpino assieme alla guardia di finanza di Sella Nevea e ai vigili del fuoco ha tratto in salvo con l'elicottero della protezione civile poco prima delle ore 20 due escursionisti che hanno richiesto aiuto scendendo sul versante del monte Cimone prospicente la val raccolana i due giovani del 1992 e del 1995 entrambi militari di stanza a Remanzacco ma residenti in Abruzzo avevano compiuto la traversata partendo dalla val Dogna lungo la ferrata Norina in discesa si sono bloccati nel tratto di sentiero interessato qualche anno fa dall'incendio dove sono presenti alberi caduti e terreno impervio si sono bloccati ad una decina di metri fuori traccia dal bivio tra il sentiero 621 e il sentiero 624 a quota 1650 metri l'elicottero della protezione civile ha imbarcato due tecnici a Saletto dove è stato allestito il campo base e li ha portati in quota sbarcandoli poco lontano dal punto in cui i due si trovavano i due soccorritori hanno camminato un breve tratto per raggiungere gli escursionisti e li hanno scortati fin dove era possibile effettuare l'imbarco per condurli a valle una volta sbarcati in valle raccolana i soccorritori li hanno accompagnati a chiusa forte con il furgone del soccorso alpino il concerto stagioni ieri oggi e domani a cura dell'orchestra giovanile filarmonici friulani è una rassegna che porta la musica sinfonica dei grandi compositori sui territori nei parchi all'aria aperta dove chiunque possa ascoltarle è stato uno spettacolo nello spettacolo vedere il pubblico arrivare a piedi o in bici al laghetto Minesini di Gemona che si conferma un anfiteatro naturale perfetto per ospitare eventi musicali ed apprezzare gli eventi appunto all'aperto il controllo del territorio da parte della polizia locale di Monfalcone implica un'attenta osservazione anche sull'autotrasporto l'obiettivo sindicazione dell'amministrazione comunale e di elevare l'attenzione verso le irregolarità che possono comportare situazioni di mancata sicurezza e di concorrenza sleale traducendo il tutto in numeri gli autocarri controllati nei primi sei mesi dell'anno sono 292 con 445 sanzioni principalmente per assenza del titolo autorizzatorio tempi di guida e riposo non rispettati irregolarità nella documentazione e dispositivi a bordo 4 i trasporti abusivi accertati con sanzioni da 5.000 euro l'uno e il fermo di tre mesi del veicolo le riduzioni della Tari che questo mercoledì il consiglio comunale di Palmanova sarà chiamato a votare andranno dal meno 5% alle famiglie al meno 65% per le attività economiche per una diminuzione totale stimata in 73.000 euro per i cittadini e attività di Palmanova a cui si aggiungono altri 76.000 euro di riduzioni grazie al lavoro degli uffici e dell'assessorato nella revisione delle corrette superfici di conferimento è prevista una riduzione generalizzata per tutte le famiglie del 5% appunto a cui si sommano agevolazioni per chi ha figli meno 25 euro per ogni figlio fino a 26 anni dal secondo in poi ebbene questa era la nostra ultima notizia io vi ringrazio come sempre per averci seguiti vi auguro un buon proseguimento di serata dopo un piccolo break pubblicitario linea che può passare al collega del Veneto grazie arrivederci un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto continua l'informazione di Telepordenone è già oltre il 50% la percentuale di popolazione che in regione ha ricevuto l'immunizzazione al covid-19 lo ha reso noto il bollettino di azienda 2.429.440 le persone che hanno dunque effettuato il richiamo pari al 50,1% dei residenti ieri oltre 33.000 le dosi somministrate sul fronte dei nuovi casi di positività il covid-19 nelle ultime 48 ore sono stati 407 nuovi positivi un decesso con il totale delle vittime salito a 11.632 tempo ancora instabile in tutto il Veneto il centro funzionale decentrato della protezione civile ha diramato lo stato di attenzione in alcuni bacini idrografici fino alle 24 di mercoledì sono diverse le aree attenzionate in particolar modo anche il basso piave Sile bacino scolante in laguna e l'area di livenza lemene e tagliamento grandinate forti grandinate nel bellunese con danni ai vigneti anche in alcuni casi del 100% sentiamo perdite fino al 100% di uva nei vigneti a causa della grandinata che ieri pomeriggio ha flagellato il territorio feltrino chicchi di grandine come palline da ping pong hanno bersagliato le colture già colpite più volte durante quest'ultimo mese facendo disastri nella zona di cesio maggiore i nostri produttori stanno compiendo le verifiche sui campi ha spiegato oggi Enzo Guarnieri vicepresidente di confagricoltura a Belluno ma sappiamo che la tempesta ha duramente colpito non solo cesio maggiore ma anche pederoba cesio e santa giustina i produttori hanno avuto mediamente danni attorno al 30% ma c'è anche qualcuno che ha perso tutta l'uva siamo preoccupati dice ancora questa è la terza grandinata di media gravità nel giro di poche settimane una che proveniva da nord ha colpito anche l'area da Mugnai a Pedavena l'altra ha preso in pieno la zona di Seren del Grappa ed intorni Marco De Bacco titolare dell'azienda vitivinicola omonima vincitore di numerosi riconoscimenti grazie a vigneti autoctoni e resistenti è tra i produttori più colpiti ieri alle 17.30 è venuta giù tanta di quella grandine da fare un macello di foglie e grappoli ha detto nel mio vigneto di Cesio Maggiore a Chardonnay e Pinot in alcune parti c'è poco da salvare in altri ci sono danni attorno al 30% e gli altri produttori della zona sono nelle mie stesse condizioni ho vigneti anche in altre realtà ha detto come Serenda e Grappa e Fonzaso dove la grandine ha causato molti danni altrove la perita di produzione sarà minima perché le rese sono alte e l'uva si è ripresa bene ma qui purtroppo è stata una batosta grave incidente questa mattina attorno alle 8 lungo la Feltrina a Monigo siamo nel Trevigiano un'auto ha impattato con un 37enne che procedeva in sella alla propria bicicletta e si trovava sulla pista ciclabile l'uomo è stato caricato dall'auto e finito rovinosamente a terra immediato l'allerta al 118 con l'arrivo sul posto di sanitari e appunto medici e infermieri che hanno trasferito il ciclista di 37 anni all'ospedale Caffuncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale appunto della marca in terapia intensiva alle 7 del mattino invece i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè nel Veneziano lungo la regionale 245 in via Castellana per un'auto finita in un fossato dopo la perdita del controllo da parte della conducente rimasta ferita assieme a una passeggera i pompieri arrivati da Mestre anche con l'autogru e i sommozzatori per la presenza di acqua nel fossato hanno messo in sicurezza l'auto e estratto le due donne che sono state prese in cure dal personale del Suem 118 le due ferite sono state trasferite in ospedale un uomo di 52 anni torniamo nella marca trevigiana ha perso la vita ieri sera a Sernaglia della Battaglia dopo essere uscito di strada con la propria Vespa Piaggio la vittima Lino Zannoni attorno alle 20 stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo quando improvvisamente in via Castello ha perso il controllo della due ruote finendo prima nel campo a destra della carreggiata e poi contro il muretto di un'abitazione inutili purtroppo i soccorsi da parte dei sanitari che non hanno potuto far altro alla fine che constatare la morte a seguito delle gravi ferite riportate Zannoni era molto conosciuto a Sernaglia della Battaglia dove gestiva una gelateria i rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto fa il bagno con il mare mosso assieme al figlio ma va in difficoltà e muore la tragedia è accaduta ieri mattina ad una verde frazione di Caorle a perdere la vita un turista di nazionalità irlandese 51 anni che nonostante le condizioni proibitive dell'acqua aveva deciso di fare qualche bracciata ma qualcosa è andato storto forse per un malore o proprio per il mare mosso sta di fatto che il figlio della vittima di 16 anni ha raggiunto il padre provando a salvarlo purtroppo inutilmente il giovane stremato è stato elitrasportato all'ospedale di Mestre dove si trova in gravi condizioni sul posto oltre al 118 anche la Capitaneria di Porto che ha eseguito le indagini dolore e sconcerto in tutto il Veneto orientale invece per la morte del 17enne colto da un improvviso malore mentre giocava a calcio con gli amici in oratorio a Passarella frazione di Sandona di Piave Cristian Bottan abitava a Caposile frazione di Musile di Piave il ragazzo si è accasciato improvvisamente attorno alle 16 nonostante i soccorsi e le manovre rianimatorie andate avanti per quasi 50 minuti i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte per arresto cardiaco sul corpo del 17enne studente all'Istituto Alberti verrà con tutta probabilità eseguita l'autopsia per stabilire l'esatta causa del decesso due distinte operazioni hanno invece consentito la guardia di finanza di sequestrare nella marca circa 5.000 litri di vino e oltre una tonnellata di zucchero a seguito di alcune violazioni emerse secondo quanto ricostruito dai baschi verdi relativamente alla normativa di settore il primo blitz ha portato al sequestro di 3.500 litri di prodotto imbottigliato e oltre una tonnellata di zucchero nel secondo intervento i finanziari hanno fermato e sottoposto a controllo a Valdobiadene un veicolo commerciale che trasportava invece 948 bottiglie di vino bianco spedite da un'azienda agricola del Bellunese nei confronti di un privato consumatore di Valdobiadene e dichiarato come prosecco doc sul documento di trasporto in assenza di qualsiasi etichetta o fascetta volta a certificarne l'origine la qualità e la sicurezza il primo blitz invece era accaduto a Codogne con un veicolo commerciale che trasportava 396 bottiglie di vino bianco prive anche qui di etichetta poi i baschi verdi hanno proceduto al controllo nei confronti dell'azienda Mittente un totale dunque di litro sequestrato che ammonta a 5.000 litri in una terra come il Veneto con una caratura mondiale rispetto alla qualità vitivinicola questa vicenda ha commentato oggi il presidente della regione Luca Zaia non costituisce solo un reato ma un sacrilegio vino scadente contraffatto prosecco tarocco zucchero questi signori hanno fatto quanto di peggio fosse possibile per rovinare il buon nome delle produzioni vinicole Venete cerca di evitare un posto di blocco e rischia di investire un carabiniere ma alla fine viene arrestato evita il posto di blocco rischiando di investire un carabiniere 32 anni brasiliano arrestato per resistenza pubblico ufficiale è accaduto nella notte a Postioma nella marca trevigiana lungo la regionale 348 in direzione Montebelluna il conducente della Citro in C4 nonostante l'alt dei militari dell'arma ha continuato la propria corsa manovrando pericolosamente il veicolo verso un vice brigadiere che con prontezza di riflessi è riuscito a evitare l'impatto cadendo a terra è partito subito l'inseguimento terminato a Castagnole di Paese in via Negrelli assieme al brasiliano in auto vi era anche un uomo di origini sudamericane entrambi già noti alle forze dell'ordine il primo per reati contro il patrimonio della persona mentre il secondo per violazioni al codice della strada inevitabile per il brasiliano l'arresto e la conduzione in carcere a Treviso dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria è stato un weekend particolarmente caldo anche quello relativo al fronte dei soccorsi in montagna ieri sera il soccorso alpino del centro Cadore è stato allertato per una coppia di escursionisti in difficoltà dopo aver sbagliato direzione al rientro da una lunga camminata erano partiti da Auronzo un 27enne e una 25enne avevano seguito il sentiero per il Monte Agudo per poi arrivare al rifugio Ciaireido ma da lì insomma la loro intenzione era quella di rientrare dalla Val Darin ma la coppia ha sbagliato direzione prendendo un sentiero errato e dunque hanno lanciato l'allarme andando in difficoltà ma sono stati recuperati grazie all'intervento dei tecnici a Caorle si segnalano furti nel merino le case turistiche un'abitazione è stata messa a soquadro sabato tra le 18 e le 21 circa in via Gritti non lontano da alcune attività commerciali i malviventi sono entrati nella dimora forzando la serratura dell'ingresso regolarmente chiusa a chiave i banditi hanno puntato direttamente agli accessori elettronici lasciando perdere i soldi si sono infatti impossessati di due computer portatili di proprietà dei turisti che in quel momento erano fuori dall'abitazione per godersi la località il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine che tuttavia negli ultimi giorni hanno anche recuperato in giro per la città tra l'altro delle biciclette risultate rubate a Porto Santa Margherita nei giorni scorsi ampliato invece il distretto turistico della Venezia orientale dopo l'approvazione da parte della regione del Veneto con una delibera della giunta è stata dunque cambiata e ampliata la proposta di delimitazione del distretto estesa rispetto al 2015 anche ad altri comuni oltre a quelli del Porto Urgarese si tratta di Cavallino Treporti Ceggia Eraclea Fossalta di Piave Jesolo Meulo Musile di Piave Noventa di Piave Quarto d'Altino Sanona e Torre di Mosto a comunicarle lo stesso distretto turistico della Venezia orientale conferenza stampa medici e narrazioni dunque questo l'oggetto dell'ultimo intervento in consiglio regionale dieci parole dal lockdown sono Gasparini Gabriele presidente della fondazione Arsmedica e medico ospedaliero della regione Veneto dell'Aus 3 questo libro è stato scritto dopo molte discussioni con i miei colleghi e molte esperienze vissute in questo periodo prevalentemente nel lockdown perché a questo si riferisce il libro e più che altro si riferisce oltre che alle cose che tutti conoscono un po' i danni dell'anima che i medici hanno rotto se i medici stanno bene possono curare meglio i propri pazienti e quindi noi abbiamo cercato così un po' di parare fra noi per poter migliorare la situazione che era veramente difficile in quel periodo una ulteriore epidemia da coronavirus arrivava dall'Oriente noi pensavamo non arrivasse invece poi è stata devastante e siamo stati i primi a sperimentare nel mondo occidentale proprio qui a Venese come nei secoli scorsi una cosa già successa ma molto pesante e poi è successo quello che tutti noi conosciamo di questo noi dobbiamo per forza riuscire a trarre qualcosa di positivo qualcosa che nel tempo poi ci aiuti eventualmente a affrontare nuove difficoltà di questo tipo ma anche ci aiuti ad essere migliori fra noi nelle nostre relazioni con i pazienti e fra noi come società perché non è sufficiente l'ambito medico l'ambito scientifico bisogna che esista qualcosa di più che ci fa rinascere e ricrescere anche in ambito della società in un ambito più ampio sì beh è nato perché noi volevamo fare degli eventi su questa nuova con la fondazione degli eventi su questa pandemia e quindi abbiamo studiato i testi che riguardavano le vecchie pandemie passate poi via via quando la cosa diventava sempre più importante e quando ci siamo accorti che eravamo soli noi e soli i pazienti abbiamo cercato di migliorare quello che era la situazione dei medici anche perché i medici non hanno vissuto tutti quanti la stessa esperienza erano esperienze diversissime io ero in ospedale ma ero a contatto con molti colleghi altri trattavano a casa da soli era passato un mese due mesi non lavoravano un destino comune a tante altre attività che in quel deserto di quei giorni si erano completamente fermate e quindi oltre al danno della malattia veniva un danno economico enorme che minava ancora di più il soccorso perché costa anche quello se non si lavora non si riesce a continuare ma dovevamo preservarci da una malattia che non conosciamo nemmeno oggi e quindi abbiamo cercato di dare una traccia perché il pensiero che ci è venuto è se noi avessimo già oggi un libro di questo tipo scritto durante la spagnola forse magari riuscivamo a evitare gli errori riuscivamo a capire di più quello che succedeva non dico che è un libro per i posteri ma sicuramente è un libro per il futuro Sport Federica Pellegrini si è qualificata alla semifinale dei 200 stile libero a Tokyo 2020 con il quindicesimo tempo su 16 qualificate ho notato con difficoltà probabilmente provavo più fatica di quella che realmente avevo domani devo cambiare registro Federica Pellegrini dopo aver chiuso la sua batteria dei 200 stile a Tokyo col quinto tempo ha seguito da Bordovassa con un po' di apprensione l'ultima serie per capire se era dentro la semifinale e poi ha ritrovato il sorriso Molta di livenza due nuovi acquisti sono stati annunciati per la pallavolo che affronterà il prossimo campionato di serie A2 si tratta del regista Marco Zaccaria e dell'opposto Francesco Pugliatti quest'ultimo classe 1993 nativo di Messina nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Jolly 5 Frondi Reggio Calabria il salto dalla B alla A2 non lo spaventa così come il suo nuovo compagno tutto quello che si può fare con la danza attraverso la danza oggi al suo primo anno di direzione Wayne McGregory illumina con il quindicesimo festival internazionale di danza contemporanea la complessità l'ampiezza la trasformabilità di una disciplina in continuo rinnovamento e che in dialogo con il pensiero più avanzato concorre agli sviluppi dell'arte contemporanea nella mappa della Biennale Danza 2021 si articola in sette passi gli spettacoli dal vivo con coreografi e compagnie da tutto il mondo ma anche le installazioni all'insegna del multilinguismo le nuove energie di Biennale College la ricca produzione di opere filmate con la danza ma all'infine le collaborazioni fra discipline in seno alla stessa Biennale così come le conversazioni con gli artisti e le commissioni di nuova danza dieci giorni per quanto riguarda la Biennale Danza di attività con oltre 100 artisti tutte prime per l'Italia due prime mondiali e una prima europea chiudiamo con un ultimo servizio perché si conclude nel migliore dei modi fortunatamente il ritrovamento di un gattino abbandonato a Prata di Pordenone salvato grazie alle associazioni che operano sul territorio grave episodio a Prata di Pordenone lo denuncia gli amici di Prata dal nome dell'associazione si capisce che curano i gatti randaggi oppure i gatti che vengono abbandonati qualsiasi tipo di felino che abbia bisogno ebbene il gattino è stato trovato dentro un binone dell'umido chiuso in un sacchetto questo l'episodio che l'associazione amici di Prata di Pordenone ha voluto denunciare ovviamente non si sa chi è stato l'autore del famigerato gesto il gattino era di pochissimi giorni di vita e adesso cerca una casa una famiglia che lo accudisca per bene lontano dagli incubi vissuti all'inizio della sua vita grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio le nostre previsioni del tempo buon proseguimento con la nostra programmazione che continua non perditevi chiaramente il prossimo programma per l'informazione è tutto dunque ci si rivede con il prossimo telegiornale di Teleport di Pordenone arrivederci martedì tempo molto instabile con cielo molto nuvoloso coperto specie al mattino e schiarite in pianura dalle ore centrali nuvolosità più persistente sui rilievi precipitazioni sparse a tratti diffuse anche a carattere di rovescio temporale inviradamento dal pomeriggio e quasi assenti in serata temperatura in ulteriore diminuzione in pianura stabile un lieve aumento in montagna di Pordenone di Pordenone Grazie per la visione!